La superficie si è salvata dall'oscurità, e la mia armata di robot è stata frenata per ora. Forse i sovraterrestri penseranno di potersi vendicare, ma quando la pressione segnerà il massimo, il trimelratore glasserà i pigli del sole con la sua nera melassa, il minatore sorgerà per sottometterli tutti, e il mondo avrà bene! Sbarazzatevi degli scienziati, non appena sarà stata pompata la melma. Come hanno fatto a superare i naga? Ma è stato riappiato! Sbarazzatevi degli scienziati, non è stato riappiato, non è stato riappiato, non è stato riappiato, non è stato riappiato, non è stato riappiato. Il matore funziona correttamente. Sbarazzatevi degli scienziati, non è stato riappiato, 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 non è stato riappiato. Non posso più funzionare da solo. Fantastico! Tentiamo di sgomberare la strada. Questi tizi sono un po' strani. Attenzione, avanposti di sicurezza. Comunicazione con la sala di interrotta. Poco passi dei prigionieri e basi. Spero che ci sia un tunnel di evacuazione. Oggi è la mia giornata! La bella nuova è sconsiglia. Ricordate tutti gli scienziali alle loro postazioni. Crostover! Mi contatti immediatamente se desidera continuare a operare sul mio pianeta. C'è un po' strani. Questo è il tunnel di evacuazione Spero che spuchi in un posto sicuro Dei vostri patetici superpoteri non mi serviranno a nulla Vi schiaccerò come mosche e dovrete ritirlo chiaro È una via, mi so Non è un po' questa cosa Sì 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 È giunta la tua ora, minatore Qualcosa mi dice che non gli importa Senti il terreno tremare? Certo che lo sento È la pressione che sale nelle condutture Potrebbero scoppiare da qualcuno Un altro Un altro Ci deve essere un'altra via da qualche parte Sì 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 Grazie a tutti. In golo, Gego. Ci deve essere un'altra via da qualche parte. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.